In occasione di una gita fuori porta siamo tornati in Veneto, precisamente nell'isola di Murano, piccolissima isola della laguna veneziana notoriamente conosciuta in tutto il mondo per la lavorazione artigianale del vetro. Questi infatti sono un classico esempio di lavorazione di vetro soffiato. Questa piccola isola ma ricca di storia e di bellezze architettoniche naturali e cercheremo di mostrarvela al meglio tra cucina, storia e natura. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!